un caro saluto da diego fusaro oggi vorrei parlarvi in tre minuti quindi molto rapidamente come sempre faccio del libro di paolo borgognone generazione erasmus ecco ve lo mostro generazione erasmus edito da da ks editore nel 2017 è un testo che ha qualche anno ma che non ha smesso di parlare credo all'uomo contemporaneo in particolare è un libro che fa luce su una figura quasi mistica che quella dell'erasmus che borgognone in questo suo libro decostruisce con intelligenza e accuratezza la figura dell'erasmus è oggi oggetto come ben sappiamo di una sorta di culto permanente di celebrazione quasi fosse un culto ineludibile per le nuove generazioni a tal punto che borgognone nel suo testo giustamente spiega come dopo la naia propria del capitalismo nazional militare siamo passati con il nuovo capitalismo edoniste di libero consumo all'erasmus come nuova naia per le nuove generazioni che vengono educate allo sradicamento all'espatrio permanente all'assenza di un posto fisso nel mondo del lavoro e nel mondo tucur ecco borgognone oltretutto ha il grande merito nel suo testo di inquadrare la figura dell'erasmus da allievo di preve quale borgognone è all'interno del conflitto di classe contemporaneo mostrando come di fatto l'erasmus giovi ha una plasmazione della coscienza delle nuove generazioni in chiave ultra globalista subalterna diremo grancianamente rispetto al rapporto di forza generale in sostanza la generazione erasmus delineata con lucido rigore con appassionata critica da borgognone la nuova soggettività creata in vitro quasi dall'elite globaliste per avere dei finti antagonisti del sistema che in realtà sono espressioni quintessenziali di un sistema stesso che celebra la openness il plus godimento narcisista l'assenza di regole il desiderio innalzato a sola regola insomma la generazione erasmus che si finge alternative che vive perennemente in terrazza godendosi spensieratamente e alla maniera donistica l'esistenza rappresenta al meglio il potere che pure dice a parole di voler rovesciare è di fatto il compimento di quella che già pasolini aveva individuato come cifra di un potere che non era più clerico fascista ma che era anzi anarchico consumista neoedonista e sotto questo riguardo la generazione erasmus così come viene descritta da borgognone nel suo libro rappresenta al meglio i nuovi figli del capitalismo figli di un io minore verrebbe da commentare che credono di essere antagonisti quando in realtà sono quanto di più conformistico vi sia rispetto allo spirito del nostro tempo ecco perché bisogna partire da una critica dell'erasmus intelligente come è quella di borgognone per comprendere molto dei rapporti di forza all'interno dell'odierno capitalismo assoluto totalitario